Le avventure di Mascha Mascha è il valore dei soldi Oh mamma mia bambine guardate qui che bei vestitini in vetrina Mamma ce li compri? Ah no bambine mi dispiace ma costano troppo E allora? Tanto papà va a lavorare e i soldi ce li ha Sì beh ma non è tanto semplice guadagnare dei soldi sai ci vuole molto impegno E sono sicuro che se tu lavorassi e guadagnassi dei soldi tuoi ci penseresti due volte prima di spenderli Vuoi dire che se avessimo soldi nostri potremmo comprarci quei vestitini? Ehm sì Bene Anna ci metteremo al lavoro Ok Limonata limonata fresca Oh per me un bicchiere sì anche per me anche per me grazie Ehi Anna Mascha come stanno andando gli affari? Oh molto bene Sono tutti assetati Vedo Wow Anna abbiamo guadagnato molto oggi E vai Ma ci mancano ancora tanti soldi per poterci comprare quei vestiti Vuol dire che ci impegneremo di più Già hai ragione Katia Signore gradite una limonata? Oh io volentieri Sì anch'io Sono 50 centesima bicchiere grazie Ah ok ecco qui Oh mamma mia che figura Oh che stanca che sono E devo ancora lavare i piatti Mamma lavo io i piatti se vuoi Davvero? E io passo la scopa Ma sono molto colpita Che gentili che siete Sì ma questo ti costerà 2 euro E per me è 1 euro Oh mamma Adam sono seriamente preoccupata E perché? Beh mi sembra che le bambine stiano prendendo un po' troppo seriamente questa storia dei soldi Vedrai che è una cosa passeggera Limonata! Limonata fresca! Ciao Anna! Ciao Masha! Dai venite a giocare con noi Mi dispiace Siamo troppo occupate a vendere limonate Ultimamente sei sempre troppo occupata a vendere limonate Già dai andiamo Ah facciamo una pausa Sì sono stanca Sì sì ultimamente Masha è sempre occupata a vendere quelle limonate Sì e non vuole più giocare con noi Ehi ma queste sono le voci di Nadia e Xana Già Si vede che non si diverte più in nostra compagnia Quasi quasi non la invito neanche al mio pigiama party di domani sera Già tanto sarà troppo stanca per venire Masha Ehi voi due cosa state facendo? Niente Stiamo guardando la tv dal momento che le mie amiche non mi hanno evitato al loro pigiama party Perché sono rividiose Sì perché noi abbiamo guadagnato tanti soldi Non credo proprio Ah no Sentite bambini All'inizio eravamo contenti che voi voleste guadagnarvi i soldi per comprarvi quei vestiti Ma poi la situazione vi è sfuggita di mano Vi siete fissate così tanto nel guadagnare i soldi che avete trascurato tutto il resto Già E anche nella realtà succede così sapete Molte persone lavorano così tanto per mettere via i soldi per la propria famiglia E finiscono col trascurarla e perdersi tanti momenti importanti Masha questa festa è splendida Sì Sì Vendendo limonate abbiamo guadagnato tanti soldini Così abbiamo messo nel salvagliaio un bel gruzzoletto E il resto lo abbiamo speso per fare questa festa con voi amiche Sì perché l'amicizia è la ricchezza più grande Già Sì